Oggi spaghetti con le vongole. Servono le vongole e io ho preso quelle veraci. Prezzemolo e io ho preso quello del contadino. Pepe e io ho preso quello che c'era. Il supermercato stava chiudendo. Ma tanto, il segreto di una buona pasta è la pasta. Solo grano superiore macinato grosso nel mulino De Cecco e acqua purissima della nostra sorgente. Di De Cecco ce n'è una sola, dal 1886. Spaghetti alle vongole voraci.